Dal più magro Schibididop grasso alla persona più grassa del pianeta. E poi la morte. Guarda fino alla fine per vedere i Schibididop dal vivo. Ragazzi, è ora di cena. Si Schibididop. Oh mio Dio, questa danza di nuovo. Patatine fritte. Bene, ora tocca a te, Pocca. Mangerò questa patatina sola. Sono pieno. Questo è tutto, noob. Un'ora dopo. Wow, siamo sullo scivolo. Magro noob vai primo. Andiamo. Sono bloccato. Penso che scivoli. Sono pronto. No, sono qui. Non può essere così. Devo ingrassare anch'io. Prima questa mela. Wow, sono più grasso. Poi banana. Ah, uva. Andiamo. Ciambella. E l'ultimo. Piscina con cioccolato. Sono così grasso e viva. Non può essere così. Vi amo tutti. Togliti di mezzo. La mia cena. Fratello, guarda quanto sono grasso. Bumme. Non sarai mai grasso come me. Devo mangiare di più. Torna indietro. Oh mio Dio. I gelati sono gli ultimi. Andiamo. Wow. E una cosa. Posso ancora eliminarti. Ma aspetta. Eliminiamoli. Per favore smetti di fare il bullo. Non riesco a guardare questo. Ti salverò, fratello. Tentativa. Oh mio Dio. Era così buono. Tutto bene? Sì, grazie. Per essere ingenuo. Cosa? No. Assolutamente no. Sono nelle fogne. Devo stare al passo con mio fratello nel mangiare. È ora di mangiare. torta. Spaghetti. Di più. Oh mio Dio. Sto iniziando a sembrare schibidi. Ah, serpente. Ce la posso fare. Fungo. Oh, l'ultimo è il cheeseburger. Oh mio Dio. Sto bene. Ok, sono abbastanza grasso da eliminare il mio fratello. Ah, trampolino. Ok. Si magro. Cosa fai qui? Bulli, attaccatelo. Questa è la persona più grassa del mondo. È così grasso che devo essere come lui. Iniziamo con il cheeseburger. E poi il fiume di cioccolato. Andiamo. Sono così grasso. Oh mio Dio. Andiamo. Mangiamo Godzilla. Non posso. Devo ingrassare di più. Nakato. Tacco. Ho perso il collo e la mia testa è appena visibile, oh mio Dio. Di più. Aspetta, cosa? Non può essere così. Ora il fiume di cioccolato. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono così grasso. Ah, fratello, e ora cosa? Non sarai grasso a lungo. Pizza vai. Good to head. Assolutamente no. Devo mangiare di più più. Sono più grasso. Fattoria. Tempo per i polli. No. No. What the hell? Fatto. Lascio i polli perché li amo. Ora è il momento dell'ultima cosa. Casa di mio padre. Cosa? Cosa succede figlio? Ah, sono troppo grande. Vieni qui papà. Cosa? No. What are you doing? Ti stai muovendo. Ah, ora sono più grande di nuovo e non mi batterai mai. Sei sicuro? Oh mio Dio. Assolutamente no. Mangerò di più. Ah, sono abbastanza grande. È troppo. Sto chiamando la polizia. Andrò in prigione per aver distrutto Brookhaven. Incredibile, sono in prigione. Oh no, non abbiamo un giudice per valutarli. Ehi tu, ehi tu, vuoi valutarli? Sì certo. Prima il gatto con gli stivali. Voleva essere l'entità delle porte. Era male. Mi sono dimenticato di dire che dopo averli valutati puoi ottenere la loro grassaggine. Oh mio Dio sì, voglio votare di più. Aveva una grande pancia ma non era grassa. Aveva solo dei bambini. Aspetta cosa. Ecco la radiografia. Bene. Aveva davvero del cibo pessimo dentro di lei e aveva bisogno di un'operazione per toglierlo. Perché mi sento così male? Perché hai mangiato troppo cibo spazzatura. Lascia che lo tolga. Come hai fatto a trovare spazio per questo cibo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Finalmente. E non sei così grassa. Hai mangiato questo mentre avevi un bambino. Male. Ha iniziato a sollevare pesi. Correre e cambiare il suo corpo. Sono così grassa che devo cambiare la mia vita. A grasso. Fermare. Mi allenerò qui. Oh ma no. Wow. Ora sono pronta. UMM. Bene. Cercava di baciare il suo ragazzo ma lui non poteva. Ciao dolcezza. Vuoi abbracciare e baciare? Sì. No. No. Non possiamo. Fermi sei bravo. Grazie. Prendi la mia grassaggine. Grazie. Prossimo. Goblin e l'intero negozio di Jeff diventavano grassi e non volevano vendere più nulla. Prima di diventare grasso. Ehi posso comprare qualcosa? Sì. Grazie. Dopo essere diventato grasso. Ciao sono tornato posso comprare qualcosa di nuovo? No. Perché? Perché siamo pigri. Davvero? Questo è male. Goblin divenne così grasso che iniziò a volare via come un pallone. Aspetta cosa? Aiutami. UMM. Hanno perso la testa e ne volevano delle nuove. È ora di tagliare alcune teste. Cosa? Ah. Cosa? Qualcuno ha ucciso Screech e nessuno sapeva chi. Chi ha ucciso Screech? Chi ha ucciso Screech? Chi ha ucciso Screech? Il giorno prima. Ehi Screech, facciamo una competizione di spavento. Certo. Metti mi piace e iscriviti entro 5 minuti per ottenere un trilione di Robux. Oh no, me ne andrò da qui. Mi dispiace ragazzi, sono stato io. Davvero? Davvero? UMM. Mi hai eliminato. Era male che lo eliminassi. Quando Screech lo seppe, fu la figura, venne come fantasma e lo uccise. Ragazzi, siete cattivi per me. Ora dammi la tua grassaggine. Prossimi. Sono Nicado Avocado. Io sono Glob, 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 Glob. Era magro ma voleva visualizzazioni e diventò super grasso. Don't touch my food. Ciao ragazzi, oggi mangerò spaghetti. Grazie per aver guardato. Faceva mukbang e diventava grasso malsano. È male. Morirai. Non mi importa, è colpa tua. Ha fatto il più grande mukbang dove ha mangiato più spaghetti dell'intero pianeta. Questi sono spaghetti normali. Ora è il momento degli spaghetti normali in Ohio. Era così grasso che voleva mangiare la terra. Sei molto cattivo. Prossimo. Ha creato una canzone famosa e tutti lo amavano. Bella canzone. Hai talento. Rimase bloccato nello scivolo e nessuno lo aiutò. Andrò sulla scivolo. Sono bloccato. Non ci interessa. Diventò super magro dopo essere rimasto cento giorni nello scivolo. Sei una persona molto buona. Grazie. E ora prendi il mio grasso. Prossimo. Era molto grande e spaventoso. Sì, faccio paura. Aveva un salto spaventoso pazzesco. Mostrami allora. Mangiava tutti i personaggi di Garten of Bambani e diventava il più grande. Sei cattivo. Era la persona più veloce ma qualcuno lo mise nella macchina del grasso. Sono così veloce. Ehi. Cosa? Vieni a questa macchina. Va bene. Ora diventerai grasso. Aspetta. Cosa? Smettila. Sono così lento. Diventerai la persona più grassa del mondo. Mangiò la sua casa e divenne più grande di essa. Voleva cambiare e iniziò a correre. Ma la sua pelle iniziò ad allungarsi a causa della perdita di peso troppo veloce. Mi dispiace Sonic. Male. Ci sedeva su Enid quando non voleva fare ciò che voleva. Esci da me. Mai. Prima fai quello che voglio. Mangiava solo cibo spaventoso. Mostra cosa hai mangiato. Questo. Voglio vomitare. I ragazzi la prendevano in giro per essere grassa. Voleva cambiare se stessa e iniziò a fare esercizio fisico diventando super forte. Diventerò più forte. Bene. Prossimo. Faceva pancache di personaggi popolari e loro uscivano. Farò un pancache. Wow. Wow. Nice. Woohoo. Oh mio Dio cos'è questo? Creò un personaggio spaventoso che voleva distruggere Brookhaven. Diventò pazzo e faceva pancate pazzi che erano pericolosi. Abbiamo finalmente finito. Sei cattivo. Prossimo, tre persone da giudicare. Ha mangiato i figli di Opila verde e Opila voleva tirarli fuori. Ci sentiamo soli. Il mio cibo. Ragazzi sono tornato. Umme, dove sono i miei bambini? Li ho mangiati. Assolutamente no, come Osi. Ha mangiato Opila verde. Ha avuto uno spavento grasso. Spaventami. Le ragazze si prendevano gioco di lui perché era grasso e puzzava. Belle signore, è il signore, vi piaccio. Puzzi. Cosa? Diventò grosso e giga chad e tutte le ragazze lo volevano. Devo perdere peso e diventare forte. Ah, grasso. Correre. Ora sollevare pesi. Bene. Ti do il mio potere. Ha fatto una battaglia rap con Skibididop. Bene. Bene, combatteva contro il grasso Ronaldo in gara e ha vinto. Sei pronto, Ronaldo? Sway. Vai. Vendeva cioccolato nei negozi ma segretamente li mangiava tutti e diventava super grasso. Mamma, perché non c'è il cioccolato di Mr. Beast? Umme, è strano. Credo che le persone le abbiano comprate. La mia cioccolata. Beast, ti amo. Grazie, ti do il mio grasso. Era ultra grande e i giocatori avevano paura camminando accanto a lui. Tutti odiavano il Garten di Bambam per aver copiato gli amici arcobaleno e ha iniziato a mangiare a causa di ciò. Acchiappava i giocatori nel Garten di Bambam e li mangiava. Sei cattivo. Prossimo. Ha mangiato ogni lettera dell'ore dell'alfabeto. Diventò così grasso che mangiò le teste dei personaggi popolari. Saltò nell'acqua e creò uno tsunami. What? Sei cattivo. Erano super grassi perché mangiavano bambini che rispondevano male alle loro lezioni. Bambini oggi vi mangiano. Cosa? Cosa? Sei cattivo. Sono pronto. Prendiamo vendetta sul mio fratello. Ehi fratello, cosa mi dirai ora? O me. Lotta in Ohio. Ok ragazzi, è tutto per oggi. Grazie per aver guardato e ciao. Grazie per aver guardato il video.